umano per aiutarlo in determinate cose oggi non lavorano più e voi li portate, voi, non voi come persone, ma li portate a giocare al parco di divertimenti. Questo è il problema della società oggi, che non si prende più la responsabilità delle proprie azioni e delle proprie scelte. C'è un problema enorme di fondo. Poi se ti piace fare sport con il cane, io non lo giudico questo, io so che loro fanno agility, ma non è che perché loro fanno agility io non li prendo, ma chi se ne frega. Sono due cose diverse però, due mondi diversi. Viversi il cane e gestirlo, educarlo, non è fare un addestramento, che sia agility, che sia shield dog, che sia obedience, l'acqua, il salvataggio, sono due cose diverse.